Ti saluto, Maria, il Signore è con te, Giuseppe del eternale donna. Non ha mai paura, Maria, ecco, ormai, io mi chiamerai Gesù, sarà il Signore di Dio, il regno della pranzina. Ecco, mi chiamerai sempre il Signore, perciò si è fatta la sua volontà. Tu e Giuseppe, sei estremi scelti da Dio, perché sei molto buoni, per questo Dio vuole affidare il Signore tuo. Andiamo qua. Se è fatto a voi, giudici, non vedo l'ora di raccontare tutto questo Dio, ricordati, Maria, che è il mio bambino che nascerà, sarà un mio spesale, insegnerà a tutti a volerci bene, poterà a cominciare la morte sulla terra, e ho ancora tutta la mia chiamata Gesù. Ciao, Maria, cosa sa, non sei più un po' spaventata? Sai, mi chiamera, mi chiamera del Signore, perciò se vuoi inventare la mamma di Gesù, il figlio di Dio. Tutto questo è meraviglioso. Grazie. 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 Dal bambino Gesù, vengo pure io, questa regna per farlo scaldare. Se con quest'acqua potrete sedare e lavare i panni, veniamo con voi. Stiamo cercando il bambino Gesù, potresti indicarci la via? Sono sicuro che non è lontana, vengo con voi, vengo anch'io. Aspettate, ho questa ciazza di città fresca da portarvi. Aspettate, vengo anch'io portato il ciazza. Stiamo andando dal bambino Gesù, potresti indicarci la via? Sì, è proprio qui vicino e stiamo portando questo ciazza, è appena finito per lui. Stiamo andando dal bambino Gesù. Stiamo andando Grazie a tutti. 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 Buon compleanno, piccolo Gesù. Grazie a tutti. 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 Wow, wow. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti.